Vediamo i pesci che sono dei feri da paura appena presi, voi vedete nel prossimo video che lascio il link qui sotto Vedete a vedere Ormai le piante sono partite, vi faccio vedere un cane Niente Però Sotto qui è l'hastettone, la pizina è che ripassiamo di una lola Lavarsi sempre le mani, i pesci in soffrono Guardate questo, che colore E via, è un andato Ah, c'è un peccato tenere qua perché non si vede a notare Questo Guarda qua E' bellissimo Qui abbiamo questo Che colore Sono bellissimi Qui abbiamo il mio preferito Adesso posso sbagliarlo Non è questo Sì, questo qua Mister Rosato Questo è bellissimo, ha questo tutto rosa, guarda qualche spettacolo Io non ho mai visto una cosa del genere Si vedono le rische, tutto rosa Poi abbiamo lì a cane Un altro mezzo rosa, mezzo no E un altro bel pesciozzo con tutti i gran colori Hop, hop Poi un altro Così, bello bianco, nero Sì, è bellissimo Ecco, ha fatto un po' il danno ma va bene lo stesso Li lasciamo lì un po' acclimatare e via Un saluto No, l'ultima cosa Vi faccio vedere che Però dovrò imbastire un altro video Perché sono oggetti particolari Vedete a vedere Ci sono tanti oggetti Questi sono soggetti pericolosi Gambero della Louisiana Paura ragazzi Paura E farò un laghetto tutto a parte per loro Perché distruggono tutto Un saluto da Fulta Mertesca Campanellino Segnatevi Un bacio Ciao ciao